Musica Amici di Atisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Due Metri la Palla a Noto vista da vicino. Abbiamo il piacere e l'onore di avere oggi in nostra ospite l'attaccante della Rarinantes Florenzia Gloria Giacic. Ciao Gloria, benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, grazie a te per avermi invitato. Gloria, iniziamo la nostra chiacchierata dalla vostra ultima uscita ufficiale, test decisamente ardu contro le campionesse d'Italia in carica dell'Equipe Orizzonte. Quale eredità vi ha lasciato la netta sconfitta e incassata contro il sette allenato da Martina Miceli? Beh, sicuramente è stata una lezione, come tutte le partite, no? Indipendentemente dalla vittoria alla sconfitta si impara sempre qualcosa. Forse dopo questa partita abbiamo imparato che non dobbiamo avere paura dell'avversario, semplicemente ovviamente per nulla togliere all'orizzonte. Sappiamo benissimo che era una sfida praticamente già scritta. Però c'è stata un po' di paura, per così dire, quella che si chiama un po' sudditanza psicologica della squadra, perché hai davanti le campionesse d'Italia. Magari avremmo potuto fare qualcosa di meglio, di sicuro. Per cui ci portiamo a casa questa voglia di continuare a provarci, ecco, per così dire. Certo. È detto che abbiamo avuto un po' troppa paura, magari non avremmo vinto, però potevamo iniziare a rompere le scatole anche ad un avversario più quotato. Allora ti chiedo, che cosa manca a questa Rarinantes Florenzia che ha chiuso la scorsa annata al quinto posto e adesso occupo ancora il quinto posto per provare a colmare il gap che la separa dalle prime quattro? Non dico di chiuderlo in un'unica soluzione, però per fare un passetto che vi avvicini. È una bella domanda, è molto difficile. Probabilmente, non lo so, la prima cosa che mi viene da dire manca un po' anche di esperienza, perché siamo una squadra giovane, non tanto anagraficamente parlando, ok? Ci sono sicuramente squadre che hanno un'età media più giovane della nostra, però credo proprio a livello di esperienza pallannuotistica, perché comunque abbiamo tante atlete che, insomma, è da poco che militano nelle massime serie del campionato di pallannuoto, per cui sicuramente anche il sapere affrontare le partite, no? Ma anche il sapere di non aver paura degli avversari, soprattutto quando non hai niente da perdere o non aver paura di vincere, perché sembra banale, ma a volte può esserci anche questa cosa di non saper gestire le vittorie. Credo sia essenzialmente questo. Poi si può parlare di atleti più o meno forti da inserire nell'organico, però ecco, la squadra, secondo me, quando decidiamo di fare le cose che sappiamo fare e di crederci, funziona bene. Probabilmente serve anche abitudine nel capire che possiamo farlo, queste cose. Non ti dico che rientreremo nelle prime quattro da qui al breve termine, sono realista. Sicuramente questi sono step che poi si compiono un passetto alla volta e sono percorsi che richiedono del tempo. Però sai, a volte l'acquisizione di un'ulteriore consapevolezza nei propri mezzi, quello step psicologico che ti porta a dire, ma forse poi non sono così inferiore rispetto a chi mi sta davanti, provo a giocare in un altro modo, è già un primo passo verso quella che poi può essere la definitiva maturazione. Avete però nella vostra annata già centrato un obiettivo importante, ne parliamo tra poco, l'ingresso nella Final Six di Coppa Italia. Quanto sarebbe importante per la crescita di un gruppo nel quale ci sono tante giovani, lo hai detto tu, anche anagraficamente, completare l'annata centrando il traguardo dei play-off? È sicuramente tanto importante, tanto importante perché si ritorna proprio su quello che abbiamo detto fino ad ora, che psicologicamente sarebbe sicuramente un traguardo che ti fa partire la prossima stagione con un altro punto di vista, per cui sai dove puoi arrivare, perché insomma rientrando nei play-off sarebbe veramente un bel passo. E proprio per, come dicevo, per gli atleti un po' più giovani che magari non credono molto nei loro mezzi, o che a volte hanno quasi paura di quello che possono fare, potrebbe essere molto molto utile, ecco. Vado un po' più sul personale. Vai. Dal tuo sorriso a tutta bocca capisco già che hai capito dove sto per andare a parare. Sei la più esperta della squadra, la senatrice del gruppo. Grazie, carino, definirmi così, grazie. E come ti senti nel ruolo di, permettimelo se sbaglio, sei libera di correggermi, di mammina di queste giovani birbanti? Mi fai sorridere, ridere perché mi chiamano mamma glow in squadra, ma per il semplice fatto che, non lo so, a volte ho premure anche nei confronti delle mie compagne di squadra che avrebbe veramente una persona cara, ma le banali raccomandazioni del tipo, guarda, stai attenta, ma cosa fai, ecco, quelle che farebbe una mamma. Però ti dico, parlando fisticamente, parlando non mi dispiace questo ruolo, mi ci trovo bene. Mi piace che mi vedano un po' sotto questa luce qui di mamma chioccia, come si suol dire. Ma sai essere anche cattiva quando serve, sai anche arrabbiarti con le tue compagne più giovani. Assolutamente. Il prossimo match ufficiale è il vostro debutto nella Final Six di Coppa Italia. Allora ti chiedo, che manifestazione sarà, secondo te, quella che inizia venerdì ad Ostia? Sarà sicuramente un ottimo banco di prova, un ottimo banco di prova per mettere in pratica quello di cui abbiamo discusso fino ad ora, appunto. Abbiamo un altro scontro, che sulla carta, insomma, è già scritto, però è sicuramente una di quelle occasioni che dobbiamo sfruttare per mettere in pratica quello che sappiamo fare, senza aver paura dell'avversario, senza aver paura di noi stessi, con rispetto proprio verso tutti, sia verso l'avversario che verso noi stessi in primis. Per cui sarà sicuramente davvero un'esperienza molto usile. Ne sono più che convinta. E allora chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Che cosa dovete fare per archiviare la prestazione contro Padova come positiva, a prescindere da quello che sarà poi il risultato? Seguire, come dire, lavorare in sincrono. Seguire le indicazioni che ci diamo, per cui abbiamo delle specifiche indicazioni tecniche, riuscire a metterle in pratica. Senza confonderci, senza, insomma, sbragare, come si dice, perdendoci o sbagliando magari, o puntando il gioco sull'individualismo, che purtroppo non è il nostro tipo di gioco. Noi funzioniamo bene se giochiamo tutti e 13 insieme. E quindi è questo l'essenziale. Se riusciamo a lavorare tutti e 13 insieme, sono sicura che allora la partita di sabato, la partita di venerdì sarà positiva, costruttiva per noi come squadra. Va bene, con questo auspicio espresso da Gloria Giacchi, chiudiamo la nostra chiacchierata. Ringrazio Gloria per averci fatto compagnia e non posso far altro che dare appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Gloria, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao, grazie.